Ma chiedi libertà, lo sai non sono io, ma c'è un'attività, un sentimento libero da me. Tu quanta morirei, il cambio di un senso è il cuore, e l'attimo di un senso è l'esperienza, davanti gli occhi viene. Ma tu chi sei? C'è un'attività, 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 e anche l'anima, ma tu chi sei? Il cielo ti ha lasciato andare, un'angelo lo disse a favore, la natura che, l'anima è salve, e tutto quello che tu fiori, e adesso che muovi, non devi fare niente che non vuoi, il cuore non ci sta, in una scatola, e tanto che non lo è. Ma tu chi sei? Un'angelo lo disse a favore, che è caduto qua, l'unale è riscata, e fa un amore anche l'anima, ma tu chi sei? Il cielo ti ha lasciato andare, un'angelo lo disse a favore, la natura che, la vita è sempre, è tutto quello che tu fiori, che tu fiori. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire, un'angelo lo disse a favore, che è caduto qua, l'unale è riscata, e fa un amore anche l'anima, ma tu chi sei? Il cielo ti ha lasciato andare, un'angelo lo disse a favore, la natura che, si manifesta in te, è tutto quello che tu fiori, che tu fiori.